Coutinho è forte, deve solo adattarsi al calcio inglese, ma ha tecnica e passaggi di qualità. Secondo me deve solo migliorare dal punto di vista della forma fisica, ma ha già segnato tanti gol importanti. A testa e in attacco il Liverpool con Sturridge, Suarez e Gerrard, tutti giocatori sulla stessa lunghezza d'onda. Il gol per il Reds arriva con facilità, anche se devo dire che Sturridge ha ancora bisogno di giocare con più regolarità per fare bene. Lo vedremo al top la prossima stagione.